allora eccoci ragazzi in sala operatoria qui dove dovremo andare a operare in pratica dovremo rimuovere tutta la batteria la centralina vabbè questo qui è il coso dell'assicurazione e tutto il box sotto della batteria il corpo farfallato il tubo dell'aria dovremo praticamente fare spazio e liberare quello laggiù che adesso vi mostro un pochettino meglio vediamo un po' se lo vedete non lo so qui là è quello che dovremo andare a modificare a cambiare sostituire inizio dalla batteria scollegando il polo negativo con la batteria scollegata posso rimuovere la centralina ora vado a scollegare i cavi che vanno alla centralina uno alla volta si clicca il blocco rosso verso l'esterno e si alza quella linguetta nera si ruota quella linguetta nera che la tiene in posizione e semplicemente si estrae i cavi sono differenziati per colore quindi non avrete problemi a ricollegarli anche perché hanno dimensioni differenti con la centralina rimossa non rimane altro che levare ora anche i cavi che vado a scollegare che è il lato positivo i collegamenti positivi alla batteria come potete vedere c'è questa plastica questa cover in plastica che ruota su se stessa e una volta ruotata espone vari collegamenti dovrete svitarli sono tra i collegamenti oltre il polo positivo dovete scollegare tutto e una volta scollegata avrete la possibilità di alzare questa cover in plastica e ruotarla di lato in modo che non disturbi le vostre operazioni grazie a tutti Grazie a tutti. Ora che è completamente scollegata posso rimuovere la batteria, ma non prima di avere allentato e spostato il fermo, il blocco che nella parte anteriore è fissato con ovviamente un dado esagonale. Con la batteria rimossa possiamo vedere dove è collegato il supporto della batteria al telaio con tre punti di fissaggio che dovremo andare a svitare per completamente rimuovere appunto il supporto in plastica. Non è così semplice come si può pensare perché al supporto in plastica sono collegati tramite delle clip dei cavi, quindi prima di rimuovere completamente o comunque di ruotare il supporto dobbiamo anche andare a staccare queste clip che tengono appunto questi cavi attaccati al supporto. Il prossimo step consiste nel allentare la fascetta che tiene assicurato il tubo dell'aspirazione all'acceleratore e successivamente anche l'acceleratore elettronico in modo come sempre da darci un pochettino più di spazio quando avremo bisogno di smontare il comando del cambio. Grazie a tutti. Finalmente possiamo vedere il selettore del cambio e le due viti, una un po' meno, quella sul retro si vede poco nulla, ma comunque le due viti che lo tengono ancorato al cambio. Con una chiave faccio leva e sgancio i due cavi del cambio dal salettore. Con il cambio in folle usiamo la vite fornitici nel kit per bloccarle in posizione e dato che ci siamo, rimuoviamo anche proprio di sotto la vite torta. e fissa il meccanismo, il tubo di lubrificazione al cambio. Ora non rimane altro da fare che svitare le due viti torx che fissano il selettore al cambio. che sono una sul fronte e una molto nascosta sulla parte posteriore. E prima di estrarre effettivamente il tutto dal cambio dovremo anche andare a rimuovere il sensore di retromarcia. che invece nella parte bassa frontale proprio del cambio e vi giuro ho fatto una fatica in mane ad arrivarci. non ho il footage o comunque non ho registrato la parte in cui estraggo il sensore anche se non si sarebbe visto praticamente nulla. non ho fatto nemmeno la parte in cui estraggo effettivamente tutto l'ambaradan. In ogni caso una volta allentate le viti voi alzate di qualche centimetro il selettore ruotate leggermente in senso orario e lo estraete completamente mi aiuto con un piccolo calciavita toglio per rimuovere la clip che assicura il braccio questo braccio ha il selettore e una volta tolta la clip lo estraggo grazie a tutti ora non resta che rimuovere questi due cappellini in alluminio che trapaneremo via e ci mostreranno infine la sicura che tiene tutto il blocco in posizione balza in avanti temporale di 40 minuti seguendo le istruzioni il perno soltava assolutamente via quindi con martello e picchetto quello che volete ho dovuto quindi utilizzare il trapano per trapanare via l'anima di questo perno in modo da ridurre la sua resistenza e una volta fatto dopo appunto 40 fottuti minuti sono riuscito a far saltare via con il buon caro martello infine ho rinserito tutto ho rimontato l'acceleratore il cavo dell'aspirazione il i vari sensori batteria porta batteria chi più ne ha più ne metta in poche parole fate tutto l'opposto di quello che avete prima che avete fatto prima e ritroverete finalmente con tutto rimontato e con questo bellissimo affare rosso che spunta dal profondo del vostro motore fa un bello sfoggio di sé è molto bellino da vedere e speriamo sia anche efficace allora ragazzoni ho shifter montato questo più o meno l'escursione precedente con il cambio normale andiamo un attimino a spostare la stagia qui vabbè tutto va bene ok quella più o meno è la prima andiamo a segnare la seconda ora abbiamo segnata anche la seconda dopo vi faccio una breve misurazione reale in millimetri per capire quanto effettivamente è cambiato il lancio comunque già si vede che è una buona è comunque una buona riduzione ed è che i risultati per tutti i fantastici dei numeri diamo una breve misurata così ci rendiamo un attimino conto di quanto effettivamente è questa riduzione i segni neri sono prima dell'avvento dello short shift e il segno rosso invece sono quelli misurati come avete visto prima con lo short shift innestato allora diamo un'occhiata all'incirca all'incirca abbiamo un 55 mm idem sia in prima che in seconda quindi in totale abbiamo un 11 cm poco meno tra prima e seconda abbiamo visto un attimino un'occhiata adesso i segni non sono precisissimi ma in ogni caso non è che posso sbagliare di tantissimo a occhio dopo lo short con l'installazione lo short shift abbiamo all'incirca 38 39 facciamo 40 dai per star più al sicuro sul lato del sicuro in basso all'incirca siamo sempre sui 40 poco più poco meno quindi diciamo che all'incirca da 55 mm siamo passati a 40 quindi abbiamo tolto esattamente una quindicina di millimetri che loro dicevano circa un terzo un terzo su 55 sì forse qualcosì dovrebbe essere qualcosina più forse di 15 non lo so se non riesco a fare il calcolamento ma più o meno direi che ci siamo è stato rispettato questo dato e in pratica passiamo da 11 cm totali poco meno a 7.8 7.9 facciamo 8 dai passiamo a 8 cm invece tra prima e seconda che direi è un ottimo dato soprattutto dopo aver provato la macchina all'incirca ho fatto qualcosa come 200 chilometri dopo aver rimontato tutto mi sono fatto un bel giretto in modo da riprovare che tutto funzionasse tutto il reparto diciamo elettronico perché ho smontato batterie qualunque altra cosa attaccata lì quindi ho montato tutto di smontato tutto mi sono fatto i miei 200 chilometri salutate e direi che magari non mi fa guadagnare troppo negli 0 100 nel senso non aspettatevi dei risultati clamorosi sotto quel punto di vista più che altro il vantaggio il feeling il feeling che ha la manopola del cambio adesso è molto più adesso mi viene il termine italiano in inglese direi crispy entra bella tesa bella rigida invece prima aveva tutto quel gioco quel già un movimento in stile utilitaria invece adesso sembra più una macchina sportiveggiante non sportiva perché ovviamente non stiamo parlando di un'auto sportiva e il piacere di guida l'ha guadagnato tantissimo perché comunque la marcia entrano un po meglio sono più rapide e fanno anche anche la diavoli cambia un rumore sentite un rumore un pochettino più meccanico rispetto a prima più accentuato e devo dire che è stato un bel acquisto io l'ho pagata sui 150 euro e penso che con 150 euro non ci siano altre modifiche da fare sulla proprio alto o in questo caso sulla corsa gsi che possano darvi tutto questo vantaggio tutto questo come dire questo piacere di guida in più insomma per 150 euro ovviamente direi per concludere soprattutto visto che immagino siamo quasi tutti uomini sul canale è la prima volta che più è corto meglio è quindi accontentiamoci niente ragazzi ci si becca al prossimo video e probabilmente sarà pulizia interni perché la mia corsa gsi ha bisogno della pulizia interna l'ultima volta abbiamo fatto la pulizia esterna questa volta faremo pulizia interna e che altro ah ci sono i suddili in pelle da pulire con tutti i prodottini vari e successivamente vedremo probabilmente qualcosina di estetico ho già visto un sottoparaurti in stile pc da buttare su verniciare ovviamente da verniciare da provare da scartavetrare da sistemare che secondo me potrebbe regalare un bell'aspetto alla macchina e dargli uno stacco rispetto alla vernice tutta arancione e potrebbe giovarne